A pochi minuti dal triplice fischio Simone Perotti che nella cattiva e nella buona sorte si presenta sempre e quindi davvero complimenti. Nelle settimane passate direttore avete sempre detto dobbiamo pensare a noi stessi, adesso però all'Aquila stanno pensando in tante campo basso su tutte. Questo sicuramente, oggi è stata una grandissima gioia vincere questa partita perché era uno spartiacque. La sento senza voce come sottoscritto ma credo... L'ho sofferta parecchio, anche oggi ma io le soffro tutte. Ripeto, una grande soddisfazione, i ragazzi hanno fatto una partita immensa, il mister è stato bravissimo a gestirla, a questo punto mancano quattro partite. Ripeto, facciamo partita per partita come diciamo sempre e vediamo alla fine dove arriviamo e se arriviamo in cima. Ovviamente è campo basso direttore che oggi sperava in un pareggio tra l'Aquila e Sambe. Ora però, l'Aquila cosa si aspetta dallo scontro del Riviera delle Palme proprio tra la San Benedettese e il campo basso? Io in diretta ho detto l'Aquila che farà il tifo necessariamente per i marchigiani. Beh, mi sembra anche logico, bisogna essere sinceri. Grande rispetto per il campo basso che se ha questa classifica sta meritando in questo momento di essere primo. Però è chiaro che se noi vogliamo a questo punto arrivare fino alla fine, prima di tutti gli altri, dobbiamo sperare che il campo basso perda qualche punto e che noi continuiamo a fare punti. Perché non è facile, non ci scordiamo che oggi abbiamo battuto una grande squadra ma che domenica a Vasto Girardi troveremo l'inferno perché si devono salvare. Quindi la destra è sempre la stessa, l'atteggiamento è sempre lo stesso e poi, come ho sempre detto, lo so, sarà un po' ripetitivo ma noi facciamo i conti alla fine. In apertura di diretta, direttore, ho detto e l'ho ribadito più volte, per la cornice si sentiva un odore fortissimo di Serie C. Sì, la piazza oggi ha dimostrato non solo di tenere in maniera fortissima alla squadra. Ovviamente parlo anche dei tifosi ospiti. Sicuramente, la sommettese ha sempre avuto un grande seguito. Oggi era anche una giornata importante perché comunque ieri c'è stato l'anniversario del tragico evento del terremoto. Quindi la squadra, con questa vittoria, ha voluto manifestare anche la sua vicinanza e omaggiare tutto il popolo aquilano. Però a questo punto, ripeto, l'Aquila ha dimostrato anche oggi di avere un pubblico di categoria superiore. Quindi, ripeto, non abbiamo più nulla da perdere. Giochiamociò fino alla fine. L'ultima, Simone, prima di lasciarti. Ora è necessario mantenere l'equilibrio oppure sfruttare le motivazioni che sono ovviamente aumentate dopo una gara del genere? Cioè, sfruttare più l'entusiasmo o ci vuole la bravura societaria del mister per volare bassi, tra virgolette, per poi non incorrere in qualche incidente di percorso? No, noi dobbiamo volare sempre bassi perché questa è la mentalità che ci ha portato in questo momento al secondo posto in classifica, a quattro punti della Samba. Quindi dobbiamo sicuramente essere equilibrati, attenti, guardinghi, cercare sempre di capire qual è la nostra forza e i nostri limiti. Allo stesso tempo, però, dobbiamo sfruttare questa adrenalina e le forze mentali, le energie mentali, scusate, che sono uscite fuori e che in questo momento ci stanno facendo fare la differenza. Grazie, direttore. In bocca al lupo. Crepi, un saluto a tutti. Grazie.